l'amore grazie ragazzi sono disco pubblic marini stanno più via sito incominciamo subito quando sto preparando un mancino perché almeno ci si divertirà molto di più dell'altro cuore del tecnic la prima volta faccio un video quindi vabbè allora questo è il mio primo video su youtube non so come verrà ma spero molto molto bene se vi piace iscrivetevi commentato un bel polizio in su anche in giù se non vi ho garbato non mi ne frega niente basta che vada che se a chi galva veramente il compagno scrivetevi commentate passavamo a cagare ti è che ti ha inventato stop e rinvio quando è pronto vai bella tutta bella subito ragazzi sembra che sia partito questo dannatissimo mic vi faccio vedere il mio mondo e poi ci vediamo la prossima puntata se volete che scrivetevi commenti scrivetemelo nei commenti niente scrivetemelo nei commenti il mondo di biscotto il castello di biscotto mondo 1 mondo 20 andate a cagare mondo 1 vediamo qual è vi faccio vedere tutte le due mondi che ho creato la villa questa è da davanti cancelletto che porta sul red poi vi faccio vedere dentro shift ecco su grazie a tutti